Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale ci aiuteranno a continuare a fornirvi, 7 giorni su 7, informazioni sempre gratuite. Grazie di cuore. Mediaset si trova di nuovo coinvolta in un caso spiacevole riguardante comportamenti inappropriati verso giovani stagiste. A differenza del precedente coinvolgimento di Andrea Gianbruno, questa volta Pier Silvio Berlusconi ha adottato un provvedimento più severo, decidendo di licenziare il dipendente senza esitazioni. Nel caso precedente, Gianbruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, aveva suscitato scalpore per commenti inopportuni diffusi da Antonio Ricci. Papà distriscia la notizia. Nonostante le polemiche, Gianbruno era rimasto in Mediaset. Tuttavia, il confronto con la nuova situazione è inevitabile. Il cameraman di 55 anni, licenziato, nega le accuse e denuncia una disparità di trattamento rispetto al caso di Gianbruno. Attraverso i suoi legali, sostiene che Mediaset abbia gestito la sua situazione in modo diverso, nonostante entrambi i casi coinvolgano comportamenti inappropriati sul luogo di lavoro. Secondo le segnalazioni, le accuse nei confronti del cameraman includono commenti sessualmente espliciti rivolti alle giovani stagiste durante uno stagio a Mediaset. L'uomo avrebbe utilizzato frasi come «Mamma mia, hai degli occhi incredibili» o «è fortunato il tuo ragazzo». «Hai un curriculum completo, non ti manca niente». Il licenziamento del cameraman solleva domande sulla coerenza delle politiche aziendali di Mediaset e sulle valutazioni etiche adottate in situazioni simili. E coi cosa ne pensate di questa vicenda? Secondo voi ci sono state preferenze da parte di Mediaset? Esprimete la vostra opinione nei commenti grazie.